www.canale58.com la tv sul web notizie video rubriche diretta streaming scarica l'app di canale 58 per tablet smartphone iphone buonasera cari telespettatori ospite della trasmissione politica e sviluppo l'ingegnere Giancarlo Blasi che per diversi lustri ha diretto l'ufficio tecnico del comune di Grotta Minarda un tecnico affermato in Irpinia e non solo che ha seguito la realizzazione di diversi progetti importanti ora in quescenza dopo un'onorata carriera buonasera a lei ingegnere buonasera innanzitutto la ringrazio per aver accettato l'invito da parte di canale 58 a presenziare questa trasmissione allora veniamo alla prima domanda ingegnere entrambi abbiamo seguito da angolazioni diverse l'evoluzione del progetto dell'alta capacità Napoli-Bari che prevede la realizzazione della stazione a ridosso di Grotta Minarda tutti siamo d'accordo sulla sua autorità ma da quanti anni se ne sente parlare secondo lei da esperto del settore ci sono problemi tra il tratto Apice-Orsara? ne sentiamo parlare davvero da molti anni ormai ma questo è abbastanza fisiologico per una struttura di collegamento su ferro di questa importanza sicuramente le aspettative della popolazione sono molto favorevoli io non ho la presunzione e sarei veramente presuntuoso se pretendessi di poter dare un giudizio di fattibilità su un'opera di questo tipo fior di tecnici si stanno lavorando per quello che noi sappiamo sono certo che al termine del processo di indagini che si sta seguendo avremo la certezza sulla realizzabilità dell'opera naturalmente i tempi non saranno tempi brevi si tratta di un'opera colossale e quindi dobbiamo aspettarci che almeno per qualche anno ancora per raggiungere ferrovie importanti, stazioni importanti dobbiamo arrivare a Napoli senta parliamo ancora di infrastrutture Grotta Minarda ha finito quel traffico soffocante di 15 anni fa e non solo un ruolo fondamentale l'ha avuto la visione strategica degli assi viari qual è quello più funzionale, quello che ha dato maggiore apporto a snedire il traffico? Io ritengo che un'idea che è stata concepita nell'ambito della classe dirigente di Grotta Minarda circa 25 anni fa che è la variante esterna di Grotta Minarda realizzata dall'ANAS sia stata una scelta molto indovinata l'amministrazione ha collaborato attivamente io penso di aver avuto un qualche ruolo nel seguire il lungo, faticoso processo autorizzativo che ha determinato la costituzione di questa arteria peraltro l'arteria si inserisce in un disegno molto più ampio che tende a razionalizzare uno snodo viario importante come quello di Grotta Minarda dove si intersecano l'autostrada la nazionale 90, la nazionale 91 e come abbiamo appena detto fra non molto vedrà la presenza dell'unica stazione intermedia fra Napoli e Bari dell'alta capacità quindi diventerà uno snodo intermodale di grandissima importanza la Lioni Grotta Minarda che interseca appunto per raggiungere il casello di Grotta Minarda la variante ANAS di cui abbiamo appena parlato completerà una visione strategica che è importante io ritengo che la variante ANAS di Grotta Minarda fosse assolutamente necessaria ho sempre pensato che ancora più necessaria sarebbe la variante di Arianirpino anzi mi sarebbe in questa corsa alla razionalizzazione del traffico onestamente mi sarebbe piaciuto arrivare secondo magari a un'incollatura dal primo se Ariano Irpino fosse riuscito a risolvere il problema della viabilità che è ancora più vitale che non per Grotta Minarda Bene, senta che tipo di supporto ha dato alla realizzazione della Lioni Contursi Grotta Minarda che lei ha citato prima? Lei ha avuto una collaborazione con il commissario D'Ambrosio? Sì direi più che io noi nel senso che l'intera amministrazione di Grotta Minarda l'intera classe dirigente di Grotta Minarda ha partecipato in maniera fattiva con le strutture regionali con le strutture commissariali in particolare con l'ingegnere D'Ambrosio a rimuovere quando era necessario quegli ostacoli che si frapponevano alla realizzazione di questa arteria che adesso è partita nel completamento tra Lioni e Grotta Minarda a costituire le condizioni per cui le comunità locali interessate che ovviamente non sono solo Grotta Minarda condividessero i problemi connessi con la realizzazione dell'infrastruttura guardi per quanto riguarda la Lioni e Grotta Minarda è la stessa alta capacità in entrambi i procedimenti è stato coinvolto per esempio il professore Cascetta già assessore regionale ai trasporti della regione Campania che quando parla della condivisione delle scelte in materia di infrastrutture strategiche in altre parti d'Italia cita un modello Irpinia in cui secondo il professore Cascetta questo processo di condivisione è stato particolarmente virtuoso questo in qualche modo mi inorgoglisce ma non per la mia persona ma per la comunità a cui appartengo a Grotta Minarda nell'ultimo decennio sono state realizzate diverse infrastrutture poche sono rimaste quelle a metà dell'opera tante quelle realizzate l'ultima a rigor di cronaca l'invaso spaziale che ha sollevato anche qualche polemica a che punto stiamo è un progetto necessario oppure se ne poteva fare a meno secondo lei sì è vero noi non abbiamo non abbiamo incompiute per la verità abbiamo molti progetti non realizzati mi piacerebbe parlare anche di quello certo non vorrei sembrare neanche troppo ottimista nel senso che io mi annetto più fallimenti che meriti per tornare all'invaso spaziale io ritengo che le opere di riqualificazione urbana vi è più quando si tratta di comuni come il nostro cioè comuni che hanno subito eventi traumatici tipo due terremoti nel giro di vent'anni le opere di riqualificazione urbana siano sempre una cosa augurabile il corso Vittorio Vene di Grotta Minarda è la Main Street è sempre stata la Main Street di Grotta Minarda e mi pareva più che necessario che si provvedesse a una a darle una percezione di maggiore decoro di maggiore dignità francamente io credo che le polemiche che ci sono state che sono tuttora in corso siano le classiche polemiche che si sviluppano soprattutto nelle piccole comunità dove nel far politica si cerca piuttosto la strada della critica sterile piuttosto che la strada che è legittima senza dubbio di contestare una qualche scelta mostrandone i lati deboli probabilmente un atteggiamento più costruttivo eviterebbe scelte sbagliate e se ne fanno tante di scelte sbagliate sulla questione dell'invaso onestamente non riesco a vederne un qualche aspetto che possa non essere perfettamente in sintonia con gli interessi della comunità lei mi ha detto ci sono anche opere non realizzate perché a metà dell'opera non c'è nulla quali sono questi non realizzati di cui lei ricorda ce ne sono tante purtroppo come dicevo prima penso di avere qualche merito ma non posso dirvi aver avuto tanti successi noi abbiamo importanti opere che non si sono mai avviate per esempio una riqualificazione del parco Sciarappa una riqualificazione degli spazi occupati dal vallone che separa le due colline la collina dove c'è la chiesa di Santa Maria la collina di parco Sciarappa una riqualificazione del centro storico che situazioni di degrado pressoché totale se penso alla fratta sono assalito da un da un senso di colpa davvero imbarazzante sul punto spero che chi mi seguirà ma insomma le intere classi dirigenti di Grotta Minarda qui spero ancora in qualche modo di far parte e spero che si possa conseguire qualche successo anche in questo campo daremo ora un suggerimento senta rimanendo in tema di spazi di aggregazione sociale l'assetto urbanistico di Grotta Minarda comunque è cambiato molto con l'apertura qualche anno fa qualche decennio fa della piazza a 16 marzo e l'antistante Giardino dei Curti se le piace è funzionale l'ha disegnato lei e lo rifarebbe diversamente? non l'ho disegnato io è un progetto ascrivibile al mio ufficio lo ha redatto l'architetto Palumbo che è stato mio collaboratore per più di 30 anni e che mi ha preceduto nell'andare in pensione soltanto di un anno circa ovviamente anche per quell'opera io ho svolto il mio ruolo che è quello di programmare di costituire le condizioni per cui il processo autorizzativo sia completo appaltare realizzare le opere aspetti che sovente sfuggono all'opinione pubblica nella loro complessità non sono intervenuto direttamente nel progetto se non per quegli aspetti tecnico amministrativi che mi competono più direttamente poi in linea di massima non intervengo sui progetti non sono quasi mai intervenuto sui progetti di cui ero ingegnere capo probabilmente il mio gusto personale in relazione alla sistemazione della piazza 16 marzo chiedo scusa mi avrebbe suggerito una maggiore sobrietà ma perché per gusto architettonico personale rifuggo da un linguaggio che prevede più ostentazione ma credo che sia un progetto di qualità realizzato bene e sicuramente funzionale io prima ho parlato di qualche opera anche rimasta in sospesa mi sembra fermo il terminal bus all'ingresso dell'autostrada io non voglio sapere se ci sono colpe o meno ma ci sono cause ascrivibili a qualche problema non ne sono molto per la verità il terminal aereo di Grotta Minarda come altre opere di cui abbiamo appena citato la variante Anas la Lioni Grotta Minarda la capacità la stazione dell'alta capacità vorrei ricordare per esempio il centro simosismo logico sono opere che pur non ascrivibili direttamente all'amministrazione comunale di Grotta Minarda ci hanno visto in qualche modo coinvolti da coprotagonisti se non da protagonisti nell'auspicarne la realizzazione ma anche nel facilitare il processo realizzativo Live è una di queste noi abbiamo fatto di tutto perché si completasse e si completasse nei termini a dire il vero sono meravigliato quanto lei del fatto che allo stato in cui è non si porta a compimento non ho notizie precise né di fonte diretta ho notizie di un contenzioso tra l'impresa appaltatrice e l'AIR credo che in questo possa esserci anche una qualche interferenza della regione Campania che finanzia l'opera mi spiacerebbe davvero se non si arrivasse a uno sblocco dei lavori nel giro di qualche mese perché è un'opera davvero bella importante e anche quella va nel quadro di completare l'efficienza dello snodo viario di Grotta Minarda anche perché prevede parcheggi per circa 300 posti macchine in una posizione strategica immediatamente a ridosso del casello dell'autostrada e quindi risolutiva di tutta una serie di problemi che ancora vive il traffico di Grotta Minarda perché Grotta Minarda non ha un'area PIP unica mi sembra che gli insediamenti produttivi siano dislocati un po' a macchia di Leopardo il processo di governo di pianificazione è di governo del territorio che ha riguardato il mio comune e che in qualche modo mi ha visto diretto operatore protagonista o coprotagonista ovviamente insieme all'intera classe dirigente soprattutto ai rappresentanti del popolo e agli amministratori è forse l'aspetto che mi dà minor soddisfazione nel senso che ritengo che lì siano stati commessi degli errori peraltro degli errori che attraversano un'epoca anche precedente la mia di recente più volte sono stato chiamato di fuori della mia amministrazione anche in struttura di formazione per raccontare di queste esperienze ritengo che l'interazione fra la popolazione i decisori politici e i pianificatori non abbia avuto elementi di particolare virtuosità io ritengo che il governo del territorio a Grotta Minarda ma insomma penso di poter dire che analoghe situazioni si siano unificate in quasi tutti i comuni d'Irpinia attraversati dai due terremoti o anche soltanto dal terremoto dell'Ottanta nel processo di pianificazione urbanistica che abbiamo concluso solo tre o quattro anni fa ma su cui già si rimette mano il PUC che ho firmato insieme all'architetto Castiello sono state fatte delle scelte per cui ci sono tre aree PIP di intervento pubblico una in corso di realizzazione è un piano che prevede un piano di insediamenti produttivi che più correttamente si dovrebbe chiamare centro direzionale cioè per attività soprattutto direzionale di servizi in località Condutiello di Grotta Minarda per 12 lotti edificabili 5 dei quali sono prossimi ad essere terminati e assegnati per poi poter accogliere strutture produttive poi c'è un'altra area molto vasta a ridosso del centro sismologico e una terza area che dovrebbe essere collocata a destra e a sinistra della variante della provincia che è stata terminata ma che purtroppo non è in funzione unitamente a questo sono previste aree dove la trasformazione può essere fatta per intervento diretto e questo corrisponde a pressioni precise da parte della comunità nel senso che la comunità richiede la possibilità di intervenire di operare per intervento diretto cioè non per pianificazione per PUA e questo fa sì che gran parte del territorio veda sorgere un po' a macchia di leopardo delle strutture produttive che secondo me non sono nel quadro di una crescita ordinata del territorio lei ha svolto anche attività di docenza sul tema generale delle crisi delle risorse e progetto di paesaggio ponendo l'accento sull'usura del territorio ma l'irpina è usurata? perché mi pare che queste lezioni le ha tenute in masterclass all'università di Trento se non sbaglio sì mi chiamano spesso per raccontarvi fallimenti mi è capitato un paio di volte alla scuola di territorio e paesaggio della Trentino scuola management mi è capitato anche alla facoltà di architettura della Federico secondo io sono portatore di un'esperienza anche semplicemente come cittadino cioè di un territorio che è stato attraversato da due terremoti e da altre aggressioni e che secondo me non ha gestito in maniera virtuosa le trasformazioni importanti che questi due eventi così dirompenti hanno determinato io ritengo per esempio che il governo del territorio abbia a Grotta Minarda ma anche in molti altri territori dell'Irpinia e del Sannio abbia comportato una crescita che non sempre può essere definita sviluppo e che tra gli altri errori commessi c'è stato quello di un abuso del territorio di un abuso del consumo di suolo troppo cemento? ritengo di sì ma soprattutto troppo cemento non appropriato ha un'idea in particolar modo per esempio nella sua città qual è il troppo cemento non appropriato? beh io nel corso degli interventi di cui abbiamo appena parlato ho mostrato l'aerofotogrammetria di Grotta Minarda immediatamente prima del terremoto del 62 confrontata con l'aerofotogrammetria del 2007 che è praticamente lo stato attuale d'altra parte adesso non c'è bisogno neanche di utilizzare le aerofotogrammetrie perché basta andare su Google Maps per vedere lo stato delle cose bene noi abbiamo un ampliamento della parte trasformata profondamente trasformata del territorio che è nel rapporto di 1 a 13 1 a 14 praticamente a parità di numero di abitanti Grotta Minarda nel 1962 era poco meno di 8000 abitanti adesso è poco più di 8000 abitanti il perimetro del centro edificato del centro trasformato si è ampliato di circa 14 volte e io credo che ci voglia poco per considerare che questo è una sovracrescita nel senso che certamente avevamo da recuperare rispetto ai alla densità abitativa che avevamo che era intollerabile noi avevamo persino tre abitanti per vano nel 1962 ma la moltiplicazione per 13 14 è sicuramente eccessiva la sua attività professionale si è sviluppata anche attraverso forme di collaborazione verso altre amministrazioni comunali non solo in Irpinia ma anche fuori dove ha lasciato il segno più bello quello che ricorderà per sempre al di fuori ovviamente di Grotta Minarda guardi il mio lavoro non è un lavoro che lascia segni importanti nel senso che si tratta di un lavoro oscuro di organizzazione e gestione dei processi amministrativi in qualche modo seguito per esempio della ricostruzione nel comune di Assisi in Umbria credo che sia stata un'operazione di particolare significatività nel senso che si trattava di organizzare l'erogazione dei contributi e il controllo degli interventi di recupero per ampie parte del territorio del comune di Assisi gestendo una somma complessiva dandola in miliardi di lire perché quando è cominciato il servizio c'erano ancora le lire di circa 80 miliardi credo sia stata un'operazione davvero complicata spero di aver lasciato un buon ricordo e poi ho collaborato con tanti comuni anche qui in Irpinia molto a lungo per esempio con il comune di Casalvore spero di aver lasciato un buon ricordo dire il segno mi pare un po' eccessivo il mio lavoro non è il lavoro che lascia il segno senta lei ha parlato prima di terremoto alla luce di quanto è accaduto da matrice ma possiamo stare sicuri in Irpinia con le costruzioni ovviamente guardi le norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica hanno avuto una prima evoluzione significativa per quello che ci riguarda nel 1964 una seconda evoluzione parlo di norme tecniche nel 75 una terza evoluzione nel 92 e da ultimo le norme tecniche sulle costruzioni del 2008 che sono entrate in vigore nel 2010 via via che venivano emanate queste norme tecniche che diventavano diventavano più severe in termini di richieste alle strutture noi abbiamo la stragrande maggioranza del costruito che è stata realizzata con le norme tecniche del 75 quindi molto risalenti la parte più cospicua del nostro patrimonio è lontana dal rispettare le ultime richieste delle norme 2008 tuttavia bisogna ricordarsi che il terremoto dell'80 che non è stato un terremoto lieve anche nelle nostre zone ad Ariano a Grotta Binarda certo l'epicentro era un po' più spostato però non è stato un terremoto lieve ha lasciato pochi danni sulle strutture che erano state correttamente realizzate con le norme tecniche addirittura del 75 io direi che in via di massima non dovremmo avere le preoccupazioni che avrebbero dovuto avere gli abitanti di quei comuni dell'Italia centrale che sono stati così gravemente colpiti dagli eventi dell'agosto dell'anno scorso abbiamo parlato tanto di sviluppo uno dei temi di questa trasmissione mi rimane un'ultima parte quella della politica una domanda piccante ma lei si è fatto mai condizionare o influenzare nelle scelte professionali dalla politica su qualche progetto così hanno chiesto delle modifiche sappiamo che la politica interferisce ovviamente in vari ambiti quindi intendiamoci io ritengo che la politica debba occuparsi anche di queste cose cioè non sia scorretto che la politica per esempio in qualche modo voglia mettere il naso su quello che si progetta o che si realizza mancherebbe altro anzi io direi che dovrebbe farlo sarei ipocrita se dicessi che non ci sono invece degli ambiti in cui la politica non dovrebbe entrare e che in qualche modo invece talvolta ci prova naturalmente gestire questo rapporto non è semplice non è semplice perché giungere alla contrapposizione frontale di solito non dà buoni risultati io credo che il compito del talvolta con una dose di autoironia mi definisco un burocrate il compito del burocrate non sia quello di contrapporsi alla politica o di sostituirsi alla politica o di come in tanti casi succede di mettere i bastoni fra le ruote ma non sia neanche quello di rinunciare ai suoi compiti per riconsegnarli nella mani della politica credo che il rapporto vada gestito con un minimo di saggezza spero di essere riuscito a farlo senta oggi la politica ha quella visione di assieme che appunto ha forse un ingegnere quando deve gestire qualcosa sull'urbanistica perché lei ha visto molte classi dirigenti ovviamente nel periodo sì adesso non vorrei parlare di di casi che conosciamo direttamente cioè quindi non parlo dell'amministrazione di Grotta Minarda o degli amministratori che ho conosciuto infatti una domanda una domanda in generale in generale io credo che ci sia un degrado culturale delle classi dirigenti e dei soggetti che rappresentano le comunità e degli amministratori credo che questo sia favorito dai sistemi di selezione di queste classi dirigenti che naturalmente spingono che allontanano intanto dalla politica tante persone che ovviamente non non pensano sia agevole misurarsi nel lagone politico con queste regole e poi si dice a proposito degli statistici lo statista è quello degli statisti lo statista è quello che pensa alle prossime generazioni e non alle prossime elezioni questa cosa si può trasferire anche nel micromondo delle amministrazioni locali purtroppo il sistema è tale per cui difficilmente un politico locale o un amministratore riesce a vedere a pensare alle prossime generazioni piuttosto che alle prossime elezioni in questo devo dire che il processo di degrado è dal mio punto di vista evidente naturalmente non faccio riferimenti a situazioni a noi vicine più locali rispetto a cui non penso di essere autorizzato a dare un giudizio senta mai pensato ad un impegno politico attivo io credo che lei sarà stato corteggiato nel passato lo potrà essere ancora corteggiato vista la sua alta professionalità non ci ho mai pensato io sono stato eletto una volta capoclasse in quinta elementare ma non mi sono candidato mi sono candidato senza ricevere particolari pressioni solo a fare il rappresentante degli ingegneri al consiglio provinciale dell'ordine ormai quasi più di trent'anni fa e quindi un mio impegno diretto in politica è una cosa che escludo in maniera assoluta ma non mi sento assolutamente inadatto a svolgere questo ruolo penso che se ho qualche virtù sono virtù che sono assolutamente inadatte in politica senta io sono arrivato all'ultima domanda leggendo il suo curriculum ho visto che lei ha studiato all'università del Politecnico di Torino io ho tanta stima nei confronti di questa università tant'è vero che da docente consiglio ad un target dei miei alunni di frequentare questi corsi universitari quanto è inciso sulla sua professionalità questa scelta e quale consiglio darà un giovane ingegnere oggi ma intanto io sono andato a Torino nel lontano 1969 perché pensavo a una vita completamente diversa io mi sono laureato in meccanica peraltro e pensavo di occuparmi di automobili per la verità e siccome la facoltà universitaria che era più vicina al mondo dell'automobile fatalmente perché Torino ho scelto il Politecnico che anche e soprattutto perché mi permetteva di allontanarvi era la città più lontana che aveva una serie di universitari allora quindi la mia scelta è stata molto condizionata da questo ovviamente ho un debito profondo nei confronti di quella città e nei confronti di quella università oltre che una nostalgia profonda degli studi io ero abituato come quasi tutta la mia generazione insomma io appartengo alla generazione che ancora della riforma gentile io sono mi trovo a fare l'esame di stato con la riforma sullo ma per puro caso sono stato la prima ho fatto l'esame di stato con la riforma sullo nel primo anno della sua applicazione era un'epoca in cui alla scuola si riconosceva una funzione che mi sembra ormai perduta cioè una la serietà dell'impegno scolastico era una questione profondamente interiorizzata sia nei giovani che frequentavano le scuole sia soprattutto nelle famiglie il fatto che la scuola dovesse formare e non semplicemente dare un pezzo di carta tra l'altro con quella in quella stessa università ho ritrovato il mio amico Sergio De Luca che ha concluso praticamente contemporaneamente a me il suo lungo percorso professionale da direttore generale di meccanica persona di grandissima di grandissima anche lui Irpino Doc anche lui Irpino Doc di Giungoli e quando qualche anno fa ci siamo rivisti successivamente a un momento in cui gli era stato conferito secondo me per grandissimo merito il 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 riconoscimento dell'Irpino dell'anno riflettemmo insieme su sui vantaggi competitivi che ci aveva dato l'aver frequentato una scuola particolarmente dura particolarmente selettiva e lui conveniva con me che le dieci frasi di latino al giorno che ci assegnavano quando facevamo la prima la seconda la terza media quanto fossero state utili per per nell'ambito dello svolgimento di un impegno professionale di un impegno semplicemente nell'ambito di una di una comunità grazie io la ringrazio per il suo intervento alla trasmissione politica e sviluppo le auguro ovviamente di seguire ancora il suo lavoro che è abbastanza attivo ancora grazie grazie telespettatori buonasera a tutti www.canale58.com la tv sul web notizie video rubriche diretta streaming scarica l'app di canale58 per tablet smartphone iphone per l'ambito 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 Autore dei sovrapposti